I panni stesi al sole davanti ai portici di periferia, i giardinetti riqualificati per i bambini e poi maestoso, imponente, il murales di straordinaria bellezza, l'amore più forte della morte, come l'arte più forte del degrado, segno di bellezza, quella di Dostoevsky che salva il mondo. E 300 murales più belli al mondo, l'opera di Judith Degliu realizzato alle case bianche di Paolo VI nell'ambito del progetto Trasta Taranto. L'opera tra le dieci finaliste è stata selezionata dallo Street Art Cities, Best Street Art Awards 2022, piattaforma tematica che opera in 92 città di 30 paesi. In Italia sono sette le opere in lizza per i più bei murales mondiali, si trovano ad Adria, Rovigo, Cefalù, Mantua, Palermo e ancora a San Pietro, Magisano, a Catanzaro, ad Uras, Oristano e l'opera poi regalata a Taranto. Anima pura, trattenuta dall'amore che vince sulla morte in un vortice carico di pathos e sensualità al contempo. Per votarla è sufficiente scaricare l'app Street Art Cities e segnalare la propria preferenza. Il termine ultimo per votare il 31 gennaio non è un semplice contesto artistico, c'è un significato molto più profondo che poi è in qualche modo proprio quello espresso dall'opera stessa. La morte è vincibile con l'amore. L'arte, aveva spiegato il sindaco Melucci, parlando del progetto Trust portato a Taranto, può essere veicolo di rivalutazione e rigenerazione di qualsiasi area urbana. L'arte contemporanea, peraltro, è un veicolo di promozione eccezionale per le città e in particolare per Taranto. Abbiamo individuato quindi come obiettivo i quartieri Salinella e Paolo VI insieme con il centro della città.